L'ultimo anno sicuramente l'intelligenza artificiale è diventato un tema di cui si dibatte con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa e sicuramente offre enormi opportunità sia come consumatori ma anche come lavoratori, come cittadini ma anche sicuramente delle nuove sfide che dobbiamo sicuramente affrontare. Credo che sia utile dividere il discorso in due aspetti, uno è sicuramente la produzione di questi nuovi modelli di intelligenza artificiale in cui c'è una forte concentrazione e quindi dobbiamo porci la domanda se questa concentrazione poi porta i benefici per la società a livello di un paese ma anche a livello globale. Il secondo è l'utilizzo di questo strumento dell'intelligenza artificiale soprattutto quella generativa sul mondo del lavoro e poi anche fra tutti noi come consumatori. Credo che ci sia sicuramente bisogno di regolamentare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in maniera intelligente per permettere lo sviluppo di queste nuove tecnologie che ancora una volta offrono grandi opportunità ma anche per evitare o per ridurre o minimizzare quelli che sono i rischi associati all'utilizzo di questa tecnologia. Io ho portato alcuna evidenza sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. Ad oggi questi impatti non sono negativi sull'occupazione. Molti lavoratori ci dicono che addirittura hanno beneficiato dell'utilizzo di questa tecnologia. Si possono concentrare sulla parte più interessante del loro lavoro lasciando la tecnologia all'intelligenza artificiale la parte più ripetitiva. Però sicuramente quando si prospettano nel futuro vedono anche dei rischi la possibilità di perdere il loro posto di lavoro. Due grandi ambiti di intervento. Primo quello della regolamentazione. Forse dovremmo porci la domanda quello che vogliamo che l'intelligenza artificiale faccia per noi piuttosto che quello che l'intelligenza artificiale può fare in assoluto. E secondo ovviamente dare a tutti le opportunità di beneficiare di questa tecnologia. Quindi un fortissimo investimento nelle competenze del capitale umano sia attraverso il processo formativo, la scuola, l'università ma anche attraverso la formazione continua dei lavoratori. Questa è una grande sfida perché se l'intelligenza artificiale può sicuramente permettere anche ai lavoratori con bassi livelli di competenza di svolgere mansioni, lavori che richiederebbero in teoria più alti livelli di competenza, può essere un fattore che abilita i lavoratori. Dall'altro lato chiede anche competenze specifiche, particolari, un senso critico, una capacità delle competenze di base. Quindi c'è bisogno di fare un grosso investimento in formazione, formazione continua per i lavoratori, formazione iniziale ma anche riflettere seriamente e rapidamente su quelle che sono necessità di regolamentazione nell'utilizzo di questa tecnologia.